Ciao a tutti, è notte tarda, voglio fare una domanda alle carte, senza scelta, e chiediamo alle carte se questa persona è sincera con me. Questa persona può ricordare la tua sfera affettiva, può ricordare le amicizie al femminile, al maschile, può ricordare l'ambito del lavoro, con leganza, insomma, vedete voi. Io farò parlare le carte, non vi focalizzate per forza sulla persona che avete in mente, che molto spesso è sempre questione sentimentali, la maggior parte delle cose sono quelle. Lasciate parlare prima un po' le carte, in modo tale che vi possano dare prima qualche indizio in modo da inquadrare di chi stiamo parlando. Allora, qui abbiamo i tarocchi, qui abbiamo le sibille e andiamo a chiedere. Questa persona è sincera con me? e ci stiamo parlando. Allora, qui abbiamo i tarocchi, qui abbiamo i tarocchi, finissi e allora andiamo a vedere allora il tre di coppe è una carta bellissima per qualcuno la carta più bella del mazzo insieme all'asso di denari insieme al sole insieme alle stelle insieme all'asso di coppe ma ecco però vi stavo per dire mi stavo per preannunciare che in alcuni casi il 3 di coppe che nella maggior parte dei casi è un'accezione molto positiva è la carta della riuscita è la carta dell'amore è la carta del del sì però sapete ci sono tre figure in alcune stese il 3 di coppe voi non vuoi significa situazione a tre quindi a seconda delle carte che sono intorno questa forse è una cosa che non vi ha detto mai nessuno però è vero che il festeggiare è vero che il brindare però se abbiamo delle carte particolari a fianco che influenzano il 3 di coppe ti può indicare anche una situazione a tre cioè se abbiamo che ne so il diavolo e il set di spade dall'altra parte potrebbe anche indicare insomma oppure un discorsi di tradimenti ok ma non è il nostro caso perché vedete qui va subito chiarire la carta dell'esibili abbiamo la fedeltà quindi se se in qualsiasi situazione di triangolo anche dal punto di vista lavorativo devono scegliere fra te una collega oppure dal punto di vista effettivo c'è in effetti una rivale diciamo che al passato questa persona stiamo chiedendo di una persona in particolare è stata fedele con te al momento al presente con questa persona io vedo problemi di comunicazione o una comunicazione errata vedete abbiamo il messaggio però al contrario quindi o abbiamo delle comunicazioni errate delle comunicazioni immature parole diciamo fuori posto incapacità c'è anche infantilismo nel rapporto rapporto improduttivo nel senso che si magari si litiga ci si parla l'uno sull'altro oppure discorso produttivo nel senso che non si va avanti nel ragionamento diventa produttivo non c'è non c'è la soluzione con questa persona eh ragazzi allora diciamo che se in passato le cose sono andate bene con questa persona cioè se in passato se tu fai questa domanda rispetto al passato tipo mi ha tradito questa persona no o se nel passato prossimo magari ha avuto dei dubbi di triangolazioni che magari ci sono anche state però questa persona ti è rimasta fedele adesso io vedo una situazione di cattiva comunicazione di mancanza di comunicazione e se tu mi chiedi se questa se mi posso fidare di questa persona la risposta è no anche se mi viene fuori un rapporto un po forzato con questo esito del 10 di spade 10 di spade sì lo dico sempre volte alla fine di un ciclo però significa che credo probabilmente che questa persona te ne abbia fatte di ogni è che come se qui è arrivato alla fine della sofferenza con questa persona qui l'invito delle carte sinceramente non me l'aspettavo perché questo era un veramente un bel inizio insomma delle carte diciamo rassicuranti su dei dubbi ma qui queste altre carte mi parlano di una persona che ti ha fatto stare male e che però diciamo il positivo del 10 di spade è che dopo la decima spada non c'è l'undicesima e quindi se te ne ha date 10 di spade 10 coltellate non te ne può dare l'undicesima qui lo vedo come una chiusura di un ciclo se non proprio della storia storia però vi ripeto essendo un interattivo parliamo tante persone potrebbe essere anche che ne so tu dici guarda io non c'ho nessuno potrebbe essere anche che magari finisce un lavoro per il quale sei stata tanto stato stato tanto sfruttato e quindi finisce questo ciclo diciamo di sfruttamento di apperdenza chiediamo un po qualche qualche informazione in più sul 10 di spade mamma mia ragazze 10 di spade 3 di spade abbastanza ragazze ragazzi insomma 10 spade 3 di spade per chi capisce un po di carte di tarocchi 3 di spade e la chiusura altre di spade e la rottura altre di spade il taglio e il figlio e la fine però è anche la risoluzione perché qui abbiamo la regina con il matto il matto il nuovo il matto a facciarsi il matto non aver paura e matto anche un'energia abbastanza adolescenziale di colui che senza troppo stare ad analizzare una situazione con spirito adolescenziale si butta nel nuovo anche nell'ignoto però qualsiasi cosa con la consapevolezza che tutto andrà meglio rispetto a questo 10 di spade ed è chiaro così vedete anche a livello di numerologia dopo il 10 mi riprende lo zero quindi fine di un ciclo e inizio mio faccio nuovo beh la stessa è stata un po cruda devo essere sincera diciamo che nella tua vita c'è una persona con la quale diciamo sei partita sei partito con il migliore auspicio c'era voglia di far qualcosa di serio di importante di tranquillo con questa persona poi c'è un problema se vuoi sapere che problema c'è con questa persona un problema soprattutto di comunicazione qui potete anche essere su due piani completamente diversi una persona può essere più matura l'altra può essere più matura una persona può essere onesta l'altra può essere disonesta cioè come per dire uno viene da marte un altro viene da venere e non ci capiremo mai proprio un'incompatibilità caratteriale per quanto è una stesa un po duretta nel senso che mi parla di una fine di una chiusura e non posso girare intorno io se ho il 10 di spade il 3 di spade uno mi dice che il risponso mi dai beh chiaro non è che ti posso dire che domani vai a firmare il contratto con questa persona o ti vai a sposare sono carte di inequivocabile chiusura e anche di chiusura definitiva adesso non ti focalizzare con una persona come ti ho già detto ma cerca di capire veramente chi ha questa persona con la quale è in chiusura un rapporto non necessariamente la persona che pensi tu può essere anche nell'ambito del lavoro nell'ambito delle delle amicizie però quello che mi piace qui c'è la regina di spade potresti essere tu una donna che qui non piange nessuno questa separazione per te è una cioè io vedo che una decisione che hai preso tu in maniera risoluta in maniera veramente senza sentimentalismi senza nostalgia qui c'è freddezza nella chiusura non so che cosa ti ha fatto questa persona ma ci sono qui dieci spade e ci dai un tagionetto con il 3 con il 3 ma al quale poi segue il chi se ne frega scusate il termine il chi se ne frega io adesso mi riapproccio alla vita e sicuramente tutto andrà meglio rispetto a le dieci spade che mi sono state conficcate e queste tele ha conficcate per un'altra persona nell'iconografia di questa carta dico questo e chiudo ma non ve ne porterà più di tanto perché qui c'è la regina di spade risoluta nel suo taglio nel suo rompere chiudere può essere che questa persona avete presente quelle persone che voi le avvisate attento a quello che fai se lo fai di nuovo poi chiudiamo e continuano 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 qui c'è una persona che mi esce che vi ha dato troppo per scontati troppo 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 e adesso con questo taglionetto che io vedo che darete si renderà conto che cosa ho fatto qui c'è il senso di colpa che prova l'altra persona c'è che cosa ho fatto ma cosa ho combinato questa donna cioè c'è la percezione della vostra sofferenza però qui siamo già oltre la sofferenza perché c'è la decisione qui non ci sono lacrime non c'è più angiocchiarsi addosso non c'è nostalgia perché tutti vuoi liberare di questa persona il taglio lo fai tu e beh lo fai sulla scorta di innanzitutto di una delusione perché qui ci si aspettava un rapporto importante di fedeltà ci possono ci possono essere stati dei triangoli nel passato però questa persona ti ha inflitto troppe sofferenze credo forse qui è successo qualcosa anche di recente di imperdonabile o tanto imperdonabile di grosso che ti ha fatto oppure tante cose messe insieme me lo dice anche il 10 cioè il cumulo della ripetizione del comportamento che ti fa soffrire anche più cose diverse che alla fine ti fanno dire stop basta è troppo in maniera risoluta questa carta mi piace molto questo abbinamento quando stanno i tre di spade non lo prendete male per dire la stesa è brutta no perché è bella mia bello mio se ti liberi di una persona che ti ha inflitto dieci coltellate ma prendi la cioè che il sole ti baci e prendi la veramente come ma finalmente che me la tolgo questa persona qui cioè non è che per forza il rapporto che si chiude a qualcosa di negativo porca miseria ti vai a togliere dieci lame dal corpo te le togli te le togli il dieci di spade vuol dire che te le ha infilate ma non vuol dire che ti ha ucciso questa persona che per sempre ti devi tenere queste spade cioè è come se ti va una spina nel dito e si ti è andato ti appunto ti ha fatto male ma la prendi la togli è chiaro che dieci spade nella loro nel loro significato più intrinseco significa proprio questa persona ti ha un po messo veramente ko e io vedo comunque lo zero qui è come se deve esserci una primavera per te anche se adesso siamo in autunno